I 30 anni, 40 anni, 50 anni che noi privilegiati dell'Europa occidentale, perché è successo soltanto qui, mentre il resto era più o meno in un caos, magari un caos creativo, noi privilegiati dell'Europa occidentale abbiamo avuto ai bei vecchi tempi del muro di Berlino, sono stati un'eccezione alla regola, mentre la regola è quella in cui viviamo adesso, in cui l'ordine non c'è, in cui c'è un grosso cambiamento, in cui si ridisegna un nuovo equilibrio delle nazioni che però non sappiamo ancora che cosa sia, in cui si ridisegnano delle nuove regole, in cui non si sa più se l'estato è utile o inutile o dannoso, in cui ci sono soggetti nuovi che emergono quasi ogni giorno e in cui questi soggetti non si sa mai se siano buoni o cattivi, si guardi alla finanza internazionale e albercate alle sue regole che fino a ieri sembravano la paraccia universale e che oggi forse sono uno dei nemici da combattere, almeno in parte. Le corporazioni sono degli agglomerati di carattere economico che non fanno più riferimento agli stati, una volta c'erano le corporazioni di stati, c'erano gli stati che avevano le proprie corporazioni, oggi non è più così, oggi ci sono corporazioni che possiedono gli stati, che hanno gli stati che fanno esattamente quello che vogliono loro, ci sono dei gangli ormai talmente connessi tra potere economico e potere statale in cui quello economico e comunque chi gestisce quello economico ha il sopravvento sull'istituzione dello Stato, lo Stato come istituzione oggi è quasi sparito dappertutto, oggi esiste uno Stato che è un procacciatore di servizi e chi è che dà i servizi? Li dà un po' ai cittadini e molto a quelli che assicurano il potere economico che poi oggi, oggi ma solo oggi è il potere reale, quindi la dimensione della guerra è fondamentalmente, siccome abbiamo detto che è uno scontro di volontà, ma soprattutto per degli interessi, chi è che gestisce gli interessi gestisce la guerra e chi è che gestisce gli interessi oggi non sono più gli stati, Ugo Chavez in Venezuela crede di essere uno statista che gestisce uno Stato e se è vero è l'unico rimasto, se è vero. Quello che invece succede nel resto del mondo è che esistono dei forti interessi economici, i quali sviluppano delle connessioni con gli interessi o comunque con loro organizzazioni statali, interstatali, superstatali, multistatali, non è solo il concetto delle vecchie multinazionali che erano in pratica corporazioni fatte da persone di diverse nazioni, no, qui si tratta ormai di corporazioni che riescono ad influenzare più Stati che hanno al proprio servizio.